signore e signori buonasera benvenuti al concerto di natale 2022 un evento realizzato congiuntamente da rete 8 e dall'associazione culturale l'aquila siamo noi devo ringraziare per questo bellissimo progetto congiunto rete 8 oltre l'editore la dottoressa polidoro il dottor perantuono un ringraziamento particolare alla meravigliosa squadra tecnica capitanata da carmine di cecco un concerto che abbiamo voluto ambientare nella meravigliosa chiesa di san panfilo qui nella frazione di torno in parte vicino l'aquila una chiesa che è un vanto per l'intero abruzzo fu definita anni fa dal professor sgarbi la cappella sistina ad abruzzo per i meravigliosi affreschi di saturnino gatti che risalgono al dipinti tra il 1490 e il 1494 quindi un connubio tra musica lirica canti di natale e bellezza architettonica che sia il nostro augurio per un natale sereno un natale che porti a una pace a una pace anche soprattutto interiore per tutti noi ve lo auguriamo di cuore e il concerto sarà tenuto da un duo di eccezione il pianista aquilano michele d'ascenso e il soprano canadese di origine tedesca doris weiss in programma musiche che spaziano da chopin a ravelle fino ai canti della tradizione natalizia vi ringraziamo e vi auguriamo buon ascolto grazie e buon natale a tutti grazie 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 a tutti